Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di mercoledì che davvero rappresenterà un po' una svolta. Finalmente tornano le piogge sull'Italia anche sulle regioni centro-settentrionali per quest'area di bassa pressione che si muoverà verso il nostro paese dalla Spagna. Controlliamo la nuvolosità attesa sull'Italia e guardate nuvele abbastanza estese e compatte da nord a sud, inizialmente più che alto sulle regioni centro-settentrionali ma poi appunto anche il sud verrà coinvolto da questo sistema nuvoloso. Precipitazioni tornano anche al centro-nord dopo settimane di siccità, partono dal medio alto tirreno ma si estendono come vedete a buona parte delle regioni centro-settentrionali. Non avremo piogge particolarmente intense e insistenti però finalmente torna un po' d'acqua e anche qualche fiocco di neve in montagna. Quindi in definitiva ci attende un mercoledì molto variabile e instabile al centro-nord. L'estremo nord-ovest avrà probabilmente precipitazioni un po' meno diffuse ma qualche goccia arriva anche lì, piogge che raggiungono appunto tutto il nord, buona parte del centro-Italia a partire dal versante tirenico e già cominceranno a bagnare anche parte del sud, la Campania, l'Alta Puglia. Le estreme regioni meridionali vedranno per ora qualche nuvola ma ancora niente precipitazioni. Per tutti i tagli comunque sulle vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.